Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video di Space Survival qui in Minecraft Nello scorso episodio abbiamo affrontato probabilmente quella che si prospettava l'isola più complicata Cioè quella con tutti gli spawner là in fondo Abbiamo esplorato, abbiamo preso le cose dalla cesta, tutto fantastico Però ci siamo dimenticati di una cosa molto importante Uno, ho bisogno delle patate, dove sono le mie patate? Ecco qua le mie patate, vai, buone patate, vai, buone patate Seconda cosa, io ho un nuovo di cavallo Vogliamo farlo spawnare? Facciamolo spawnare Avevo già qui delle fence da parte Finiamo di usarle Allora un cavallo è grande, due per due No, due per uno? Non lo so, fatto sta che faremo una cosa di questo tipo Gli chiamo un bel recinto a sto cavallo, povero che Eh, probabilmente non lo useremo mai nella vita perché siamo in mezzo allo spazio, sai com'è? Fai così Pum Ah, ciao cavallo, come ti chiami? Aspetta, sono rimasto chiuso dentro Merda Veloce, veloce, prima che esca il cavallo Che poi si butta nel vuoto è un suicida spaziale Non vogliamo avere un suicida spaziale Poi vi sarà su tutti i giornali Non vogliamo esposizione al momento Visto che abbiamo delle attività criminali Che stanno andando in porto Ad esempio Il progetto di conquistare tutto lo spazio Nonostante sia illegale andare in giro e uccidere la gente Nella vita reale Oppure il fatto che io abbia così tanto diamante Da non sapere più cosa farne Ragazzi, sono serio Ho già tutta l'armatura Ho i stivali antigravità La spada ce l'ho ed è pure incantata 13 e 25 di attack damage Quindi one shot tutti Ho il piccone Cioè, cos'altro mi devo fare? E oh boh, davvero Non lo so Arriverò a un punto che userò i diamanti Di questa serie Per portare avanti la sfida dei 777 diamanti Minecraftita E avrebbe molto senso Non è vero, non avrebbe senso mai nella vita Però sarebbe un'opzione E le opzioni sono tanta roba Tra l'altro la sfida dei 777 diamanti Che ho visto L'ho visto ragazzi L'ho visto Stepney mi ha sfidato di nuovo E aumentato a 888 Ma non so bene come rispondere a questo affronto Che Stepney ci ha fatto Vedremo Vedremo in qualche modo riusciremo a fare Fidatevi di me Se non riuscirò a batterlo Con il numero Perché non posso andare Dire 7700 7000 di diamanti Perché c'è un limite a tutto Però voglio batterlo Sul tempo Cioè chi riuscirà prima A raggiungere i 777 diamanti Il mio vero obiettivo È quello di farlo direttamente Nella prossima puntata E voi direte Surry ma sei pazzo? Probabilmente sì Probabilmente sì Perché è davvero complicata come cosa Però Ci proverò Ed è questo l'importante Sto cercando di andare qua sopra Ma Non so quanto ci vuole Per arrivare in cima A sta isola Che tra l'altro Non so se avete notato È tutta strana Cioè c'ha C'ha gli alberi da tutte le parti Quest'isola Un po' particolare Ma non è un problema Non è un problema A noi piacciono le cose particolari Se non che io Sento Uno zombie Che ho appena cacciato Via Allora cosa c'è qua dentro? C'è una testa di creeper Delle spalle di ferro Mezzo vuote Ed è l'armatura in oro Che non mi serve assolutamente A niente Se permettete Però è il nostro obiettivo Uccidere tutti Nonostante tutto Quindi andiamo un attimo in giro Ho ucciso già quello zombie Dovebbe morire È morto? È morto? Poi sentivo anche uno scheletro Che non lo sento più Va bene Non è un problema Non è un problema Sono curioso però di sapere Se qua sotto c'è qualcosa Perché un'isola così grande Ah che non lo sapevo Che non lo sapevo Che ci stava qualcosa Mi sembrava impossibile Che un'isola così grande Non avesse niente all'interno Cos'è questo posto? Ma è vuoto? Ma è un posto vuoto? È una camera a se stante? Sper Spacchiamo un pezzo di ossidale Magari c'è un dungeon sotto Che ci porta a qualche parte Non lo so Sento degli scheletri Ad esempio Spaccati Ok Muori Muori C'è Un blocco di smeraldi L'ho preso C'è qualcos'altro sotto? C'è qualcos'altro sotto Ma non si vede niente Non ho del carbone ragazzi Purtroppo Questo è un blocco di diamanti Si scende ancora? Io sento mob Aspetta vediamo Magari ci sono Non si vede assolutamente niente Cazzo Aspetta Pensavo che con la optifine Potessi aumentare ancora Si scende ancora Ragazzi C'è Penso ci sia un labirinto Non porta a nessuna parte Non si vede Non vedo niente Già porto gli occhiali C'ho mille mila gradi Che mancano Cioè se poi mi metti anche poca luce Io davvero Abbattiamo Abbattiamo le Librerie E infatti Che non lo sapevo Morite Un po' di carbone No no Le torce Non piazzare il legno Al posto delle torce Cosa Cosa La chestplate L'armatura Del Dell'informazione Dell'intelligenza No non è Intelligenza Non è intelligenza Proprio Cioè più informazioni Hai presente L'intelligenza straniera I007 Dicono sempre così Comunque altri 5 diamanti Che non so davvero Come utilizzare E una cazzo Di bestia assurda Cioè come Cioè come dovrei usarla Io questa Non lo so Non lo so Ma non è un problema Non è un problema Perché manca ancora Tanto da esplorare In questa mappa E quindi sono sicuro Che in qualche modo Riusciremo a utilizzare Uh Cos'è sta luce Sta luce Tutto all'improvviso Di nato il giorno Mi sa di no Siamo nello spazio Non lo so Ci sta un po' di luce Così all'improvviso Va bene Va bene La cosa positiva È che abbiamo anche Un blocco di smeraldi Che possiamo utilizzare Con i villager Bisogna vedere poi Come la va Ah Qua c'è Della Ossidiana Cosa Perché c'è Della ossidiana Vedimi che è un portale Dovrebbe essere un portale Questo Ho l'accendino Non ho l'accendino Però ho il blocco Di ossidiana L'unica cosa Davvero non penso Che funzioni Un portale In orizzontale Ho davvero Tantissimi dubbi A riguardo Però magari Era solo un'indicazione Per dirmi Guarda Prova a scavare Che trovi qualcosa Infatti Mi sa che è per quello Qua dove siamo Eh Siamo alla libreria finale No Sì Sì Alla libreria finale Aspetta Dammi le uova Cioè Le uova potrebbero essere Più utili Di diamanti In questo caso Perché posso fare così Le uova Le uova È finito Oppure potrei fare così Una bella testa di creeper E passa la paura Signore e signori Ah tra l'altro Non me lo ricordavo Ma Io Tipo due tre anni fa Ho donato a optifine E mi hanno regalato il mantello Ho il mantello di optifine Vedi Ho il mantellino in minecraft Figata Però posso anche fare così Guarda un po' Pum Ora sono un creeper Con un'armatura di diamante Incantata E una patata E non ho paura Di usarla Che non ha molto senso Come frase in realtà Ma ehi Chi sono io per giudicare Allora Il prossimo passo È andare lì Sapete perché? Beh semplicemente perché Ho visto una strega E quello mi dà fastidio Più che altro E ho visto un blocco di diamanti Quindi Direi Che possiamo andare Tranquillamente A prelevare anche quello Non so bene Per cosa lo userò Probabilmente disegnerò Qualcosa fatto di diamanti A sto punto Però a noi poco interessa L'importante è uccidere Ma che volo che non ha fatto Va bene Va bene Allora ce la faccio A prendere sto coso Dovrei Mi sono un attimo spaventato Cos'era? Ma perché? Ero là con i diamantucci Era così bellino I diamanti Voglio bene i diamanti No dai Sono serio Ma quanto stronzo puoi non essere Per farmi catapulca Non so parlare Catapultare un creeper Così in faccia Mentre sto prendendo i diamanti Proprio essere infame Sì Fatelo dire Ma un livello di infame Che davvero Non si può manco raccontare Nelle favole Perché non ci credono I bambini Ok Ok Posso ancora prenderla Sta cosa? Eh no Visto? C'era il trucco C'era il trucco Ma a noi i trucchi Piacciano fino a un certo punto Perché ora possiamo Riprenderla Ha ha Va al tuo blocco Di diamanti Quanti diamanti ho Quanti E tu cosa vuoi Dalla mia vita No Non ancora Ti odio Vabbè Posiamo gli altri Quanti diamanti ho Piazziamo un'altra cesta Piazzamola qua E mettiamoci le altre cose Ad esempio le uova Le uova Le uova Le uova La lorta in flash Gli altri diamanti Lo smeraldo Per ora Perché non mi serve Le frecce Tanto non ho l'arco Le spade Tutte le altre cose Che in realtà Non mi servono Ho del carbone Si facciamo delle torce Grazie L'apprezzo Pum 4 5 sticchini 5 pezzi di carbone E chi si è visto Solo 20 torce Perché deve essere così strozzo Io davvero buono Lo so Va bene Ci riusciamo così Buc Buc Un buchino Lo mettiamo qua Perfetto Andiamo Voglio sapere Assolutamente Cosa si nasconde In cima a questo anello Di ghiaccio Che non ho ancora Ben capito Cosa dovrebbe rappresentare Sinceramente Ma ehi Chi sono io Per giudicare È un'opera d'arte Moderna Molto moderna Quasi troppo moderna Se proprio Devo commentare Però ehi Qua c'è uno spawner Di Cagni e bastardi Rompi Ok No Ah C'era l'acqua Non sono morto Chi è che mi ha sparato Chi è No Spera Chi è che mi ha sparato No What the fuck Qualcuno mi ha sparato Per forza Dai Oh Boh Vabbè Chiudiamo qua Diamo l'acqua C'è un altro spawner Subito là dietro Ok Distrutto anche quello Ok Sariamo qua sopra L'importante è non rompere I blocchi Che hanno un blocco sotto Perché come vi ho spiegato Quando abbiamo preso l'acqua Nella prima isola Dove ho messo la farma Non è la cosa migliore del mondo Ok Là c'è la cesta Il blocco di diamante L'ho preso Perfetto Andiamo a vedere Per appunto Cosa c'è nella cesta Boom Altri Ice Sword Che poi non si legge mai Sword nella vita Di tutti i secoli Dei secoli Si legge sword Ice Sword Ice Sword Sword Non sword Ne Sword Lezione in inglese Deconsul Real power Tatata Ok Voglio vedere come funziona Sta roba Cioè se io la prendo Vado più veloce Ma tanto Non mi sembra Non mi sembra Là c'è una cesta Ok no L'ho già esplorata Scherzavo Scherzavo Ma più cazzo è figo Per il fov Ma sinceramente Boh Avrebbe ferito un arco Sinceramente E va bene Qua dentro Coco Bean Netherworld Ma sinceramente Quanto cazzo Che meni Perfetto È tutto Mi sa che è tutto E invece no E invece no Cosa c'è qua sotto Un blocco Di lapislazuli Perché Questa cosa Qua c'è un quadro Addirittura Piglia quadro Qua c'è un botto D'acqua Ma l'acqua Non mi serve Acaba Torniamo su Perfetto ragazzi Mi trovo nella situazione Bellissima di avere Un fotteo di diamanti Che non so davvero Cosa farne Che dite se spostiamo La sfida Di 777 diamanti A questa No ok Scherzavo Scherzavo Fatti come se non l'avessi detto Ho dei lapislazuli Non so bene come utilizzarli Ah ma tu adoro Che cazzo Mene Le uova Le uova Le uova Le uova Le uova Le uova Perfetto Ragazzi Io mi ringrazio tantissimo Per la visione Vi ricordo di lasciare Mi piace Se vi è piaciuto questo video Di iscrivervi al canale Se non è il tuo fatto Di subito Su Twitter Instagram Facebook E ovunque Vi vogliate Ciao Turuturututti Grazie a tutti Grazie a tutti